La fine dell'inizio del primo atto ufficiale dell'era Tesoro emette un botto assordante quando Antonio Tesoro, figlio del nuovo proprietario dell'Unione Sportiva Lecce, richiama l'attenzione dei presenti per annunciare l'intervento di un'istituzione. Così definisce Avie Cevanton. C'era un'istituzione che ci voleva dare l'invoca al lupo, voleva salutare. Insomma, se può venire l'istituzione, se vuole fare un saluto ai giornalisti. Fate arrivare una persona che vuole salutare. Fate arrivare. Tra lo stupore generale, Cevanton viene accolto da un applauso, l'attaccante si commuove e viene invitato a rilasciare qualche dichiarazione. Che posso dire? Ringraziare a loro che hanno fatto tantissimo, non solo darmi un'allegria di rinportarmi a casa mia, sino hanno preso questa meravigliosa Lecce e sicuramente lo faranno uscire da questo brutto momento che abbiamo vissuto tutti quanti. Io, voi di qua, a casa, da lontano, ho sofferto tantissimo e sono felice di essere qua. Mi era passata la voglia di giocare. Voi sapete bene che io amo questa città, questi colori. E sono convinto che insieme a voi, insieme a loro, insieme ai compagni, torneremo a essere grandi, a portare il Lecce dove deve stare in Serie A. Il primo colpo di mercato della famiglia Tesoro, Antonio, responsabile dell'area tecnica, afferma che l'attaccante avrà un contratto a tempo indeterminato fino a quando il proprio nome sarà legato a quello dell'Unione Sportiva Lecce. Ceva Antone reduce da un intervento ad un tendine e in ritiro comincerà la fase di recupero per mettersi presto al passo dei compagni di squadra. La conferenza stampa di Savino Tesoro, originario di Spinazzola, ma tifoso del Napoli, era cominciata con una gaffe. Proprio perché si è trattato del Lecce abbiamo ritendato questa avventura, per noi veramente avventura, diciamo nella Lega Pro. Nella Lega Pro eventuale, perché sappiamo, eventuale anche. Non abbiamo mai pensato di venire a fare avventura calcistica a Lecce. Noi siamo gente semplice e vorrei, se sarà possibile, fare il presidente del popolo. Non voglio fare il presidente della Lecce bene o della Lecce. Vorrei fare il presidente, ho detto, di tutto il popolo già lo posso. Consapevoli dell'eredità calcistica raccolta dalla famiglia Semeraro hanno promesso massimo impegno e serietà. La molla che ha spinto definitivamente Tesoro ad avventurarsi nell'esperienza leccese è stato l'entusiasmo della tifoseria giolorossa, nonostante una retrocessione appena maturata sul campo. Il programma prevede massima attenzione per il settore giovanile, che sarà il servatoio della prima squadra. È incontrovertibile che il giocatore nato in questa terra abbia una spinta emotiva molto più importante del professionista che venga da fuori, quindi ci mette quel quid in più a livello di cuore che fa la differenza. Il settore giovanile sarà un investimento primario. Noi ci auguriamo che entro 3-4 anni, almeno 7 undicesimi della formazione titolare del Lecce, provengano dal settore giovanile. Come già annunciato, non ci sarà la figura del direttore sportivo. Responsabile dell'area tecnica sarà Antonio Tesoro, che avrà l'ultima parola su un lavoro certosino svolto da una rete di osservatori, coordinati in Italia da tre responsabili d'area e dal responsabile del settore giovanile, Matteo Lauriola, con un passato al Torino. Saranno monitorati i campionati svizzeri, sloveni, croato, quello argentino, ma soprattutto il campionato africano. Antonio Tesoro conta di seguire 3.000 partite ogni anno. Nell'immediato si penserà ad allestire la rosa per il prossimo campionato. Naturalmente i giocatori che sono stati poco utilizzati e non si sono ambientati subito, tendiamo a dare via, parlo di offerere, come parlo di piatti, come vedremo quali saranno le intenzioni di Grossmull, che si è ambientato a metà, parliamo di questi giocatori che sono pesanti dal punto di vista economico per la categoria. Particolare attenzione sarà posta al rapporto con i tifosi. Il tifoso è importante, è veramente un motore, quindi voglio che capisca quello che stiamo facendo, chiediamo rispetto e daremo tanto rispetto ai tifosi. Antonio Toma, vecchio pallino dei Tesori, è stato confermato tecnico della squadra Primavera, mentre di Franco Lerda, allenatore della prima squadra che sarà presentato domani, Savino Tesoro afferma. Quindi abbiamo una grossa stima noi da un punto di vista tecnico di Lerda.